In questo ultimo mese abbiamo assistito a numerosi allarmi e preoccupazioni in ambito sanitario correlati all'emergenza coronavirus. Un altro aspetto ha però messo in allerta la sanità pubblica, il drastico calo delle donazioni di sangue. Ai vari appelli, avvenuti anche su scala nazionale, hanno risposto in molti, consentendo di ripristinare le scorte di sangue. Dobbiamo però proseguire su questa strada, il sangue raccolto dura infatti 42 giorni e tra una donazione di sangue intero e l'altra il donatore deve attendere almeno 90 giorni. Il sistema Sangue Italia deve garantire cure e assistenza ai malati in maniera continuativa e costante, è quindi importante garantire una donazione programmata e periodica. Per donare il sangue occorre avere tra i 18 e i 65 anni, 60 se si dona per la prima volta ed essere in buona salute. In questo periodo ci siamo ulteriormente attrezzati per garantire la sicurezza del donatore, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati al coronavirus. L'invito è quello di uscire e perdonare solo dopo aver programmato e prenotato giorno e ora con la segreteria associativa. Le prenotazioni per donare presso l'unità di raccolta Avis del Favaro e il centro trasfusionale del Sant'Andrea possono essere fatte chiamando la segreteria Avis al numero 0187 51 10 89, dalle 9 a mezzogiorno e dalle 14.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì. Mentre per donare presso l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana il numero da contattare è 366-62-90940.